Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video, sono Ciaccheroni3 e questa volta siamo nella manifestazione del 25 aprile. Ho già fatto un video su questo tema bene tre anni fa dove troverete le link nella parte della descrizione. Questo video lo dedico a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, quindi mi pareva giusto tenere vivo qui la memoria della liberazione. Comunque ci vediamo durante il corso telefilm e buona visione! Grazie a tutti! 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 E come avete visto siamo nella conclusione del servizio giornalistico. Vi faccio vedere la scena più importante. Vediamola! ho sento questa scena perché mi sembrava più importante e che descrivesse tutta la manifestazione in sé. Oltre a questo, ringrazio all'AMPI e alle comuni di Milano di aver organizzato questa manifestazione. grazie a tutti! Comunque se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, seguiti sul mio sito, sul mio blog e sul mio profilo Facebook dove troverete i link nella parte della descrizione e iscrivetevi al mio canale YouTube per avere ulteriori informazioni. Ciao e alla prossima! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!